Ciao ragazzi come state spero tutto bene finalmente vedete la moto sullo sfondo qualcuno di voi mi aveva scritto nei due video precedenti che fine avesse fatto la moto la moto è stata per 15 giorni dal mio meccanico di fiducia in quanto ho deciso di fare un super tagliandone dato che dopo attente valutazioni ma soprattutto dopo un confronto con mia moglie Sara abbiamo deciso che per tutto il 2022 barra 23 forse 24 dipende anche da lei la tenerona non si cambia ma andiamo per gradi nell'ultimo video ci siamo lasciati con il costo totale del viaggio a caponorte qualcuno di voi nei commenti mi ha scritto che a quel costo sarebbe opportuno aggiungere il costo del tagliando della moto e di un eventuale treno di gomme giustissimo io ho voluto scendere le due cose in quanto se parliamo di un viaggio di 8, 9, 10 mila chilometri il costo della preparazione della moto a grandi linee è sempre lo stesso indistintamente del viaggio e mi spiego meglio se vado a confrontare il costo del viaggio a caponorte con il costo del viaggio in Russia il viaggio a caponorte è costato circa il doppio ricordo come se fosse ieri in Russia facevo il pieno alla moto con circa 8, 9, 10 euro parliamo del 2019 con un costo benzina di circa 60 centesimi ricordo anche che all'uscita della federazione russa volevo vuotare le valice e riempirle di benzina ma questo è un altro discorso comunque dato che avete sollevato questo argomento in 30 secondi vi vado a dire quanto mi è costata la preparazione della moto per il viaggio a caponorte dato che parliamo di tagliandi mi sono messo seduto di fianco al cuore pulsante della moto ovvero il motore comunque questa moto, come le vostre moto, come le auto, come i camper, come i camion ha un libretto di uso e mutazione redatto dalla casa produttrice nel caso specifico parliamo di una Yamaha SuperTenere 1.2 la Yamaha consiglia di cambiare l'olio motore ogni 10.000 km barra un anno di cambiare filtro olio motore ogni 20.000 km quindi due cambi d'olio, un cambio di filtro di cambiare l'olio del cardano, questa moto ha la trasmissione cardanica, non la catena ogni 20.000 km di cambiare le candele ogni 20.000 km di controllare il gioco delle valvole ogni 40.000 km a tutto questo ogni anno vanno fatti dei controlli generali controllo dei raggi, controllo serraggio e bullonerie controllo cuscinetti e lo sterzo controllo usura dei dischi controllo usura delle pastiglie eccetera eccetera ma per entrare nello specifico vi mostro cosa ho fatto alla moto prima di partire per il viaggio a caponorte questi sono nel dettaglio tutti i prodotti che ho utilizzato per preparare la moto per il viaggio a caponorte partendo dal primo qua troviamo olio motore motul 7100 1050 filtro olio motore high flow numero 204 per la super tenere olio per il cardano motul 8090 per trasmissioni candele NGK consigliate alla Yamaha qua bisognavi fare un discorso a parte queste sono le bobine non fanno parte della manutenzione ordinaria quindi sono la prima volta che le cambiamo però per la massima trasparenza vi ho voluto farvi vedere tutto quello che ho fatto prima di partire per il viaggio ma ripeto bisognerebbe farci un video dedicato questo è il kit per la pulizia del filtro dell'aria io non ho il filtro dell'aria originale ma ho un filtro della KN quindi può essere riutilizzato qua dentro ci sono due prodotti uno per detergere il filtro l'altro per ingrassarlo anche qua se vi interessa ci possiamo fare un video dedicato questo invece è il prodotto per la pulizia dei corpi farfallati ogni volta che cambiano le candele ne approfitto per pulire anche i corpi farfallati entrando nel dettaglio dei prezzi il flacone da 4 litri dell'olio motore lo ho trovato intorno ai 38-40 euro nel motore della supertenerea ci vanno 3,1 litri se non cambiate il filtro dell'olio se cambiate anche il filtro dell'olio 3,4 litri quindi un flacone vi avanza filtro olio lo ho trovato intorno ai 4-5 euro il flacone dell'olio per il cardano sui 10-12 euro ma nel cardano della supertenerea ci vanno 0,2 litri quindi un flacone vi basta per 5 tagliandi per quanto riguarda le candele le candele sono della legge costano 10 euro ognuna il motore della supertenerea è un bicilindrico con 2 candele per cilindro quindi 4 candele in totale 40 euro per le bobine ripeto bisogna fare un discorso a parte kit pulizia filtro aria intorno ai 20 euro ma vi basta per 2 barra 3 volte kit pulizia corpi farfallati circa 10 euro ma vi basta una vita detto questo ragazzi il costo del tagliando per un viaggio di circa 8-9-10 mila chilometri varia in relazione quindi al periodo storico della vostra moto e al chilometraggio della vostra moto se la vostra moto è a puntino potete solo cambiare l'olio perché come già detto nel libretto uso e mutazione l'olio va cambiato ogni 10 mila chilometri quindi se dovete affrontare un viaggio di 10 mila chilometri la cosa assolutamente da fare è cambiare l'olio una settimana prima di partire io vi dico il mio punto di vista dato che il tagliando me lo faccio solo dato l'importo di questi due prodotti ogni volta che cambio l'olio motore cambio anche il filtro dell'olio nonostante nel libretto uso e mutazione da Yamaha dicono che il filtro dell'olio può essere cambiato ogni due cambi d'olio ma ripeto con il fatto che l'importo del filtro è di 4-5 euro preferisco vuotare tutta la coppa dell'olio con l'olio presente dentro al filtro e rimetterlo nuovo idem per il cardano considerate che nel cardano vanno 0,2 litri d'olio parliamo di un importo di circa 2 euro detto questo ragazzi potete fare i vostri conti e vi rendete conto di quanto costerà preparare la moto per il vostro viaggio comunque per completare tutto a tutto questo dobbiamo anche parlare delle gomme e qua bisognerebbe fare un discorso a parte questa è la gomma che abbiamo utilizzato nel viaggio a Caponordo e la vedete ora montata sul cerchio perché se avete visto gli ultimi video sapete benissimo del problema che ho avuto al mozzo la ruota posteriore il cucinetto si è bloccato ha girato sulla sede consumandola ma tornando al discorso gomme per un viaggio di 8-9-10 mila chilometri la scelta del modello è fondamentale io ho già fatto un video dedicato per quanto riguarda questo tipo di modello parliamo delle TKC70 della Continental in quel video non volevo insegnare nulla a nessuno l'ho fatto solo per dimostrare in maniera oggettiva come riesce una gomma dopo un viaggio di 13-14 mila chilometri l'ho fatto soprattutto perché prima di iniziare a fare lunghi viaggi una mia perplessità era se dovevo cambiare la gomma lungo il tracetto molte volte me lo chiedete hai cambiato le gomme lungo il tracetto per il viaggio a Caponordo la risposta è assolutamente no e vi dirò di più per quanto riguarda l'olio visto il libretto uso e mutazione per un viaggio del genere dovete cambiare una settimana prima io queste gomme le ho montate a giugno dell'anno scorso ci ho fatto qualche weekend fuori porta ci abbiamo fatto il viaggio in Lessinia facendo tutta la traslessinia quindi sono partito per Caponordo con una gomma che già aveva all'attivo circa 3.000 chilometri perché conosco talmente bene queste gomme e sono talmente sicuro che in un viaggio di 13-14 mila chilometri lo posso fare tranquillamente senza dover cambiare la gomma lungo il tracetto se guardate il tassello centrale nonostante questa gomma abbia all'attivo 14.000 chilometri troviamo ancora 6-7 mm di battistrada ovviamente la zona centrale si è un po' appiattita e vedete questo gradino che si è formato tra appunto la zona centrale e la zona laterale parliamo di una gomma bimescola quindi al centro più rigida e all'esterno più morbida questa gomma ovviamente ragazzi non è sicura come una gomma nuova quindi con l'occasione di dover cambiare cerchio ho deciso di cambiare anche la gomma ma abbiamo mostrato questo dettaglio solo per dirvi che se dovete affrontare un viaggio andate tranquilli perché con questa gomma portandola al limite secondo me azzardo ci si potrebbero fare anche 18-20.000 chilometri per chiudere il discorso costi al ritorno di un viaggio del genere le gomme sono da buttare ok che nel tassello centrale c'è ancora un po' di battistrada ma con queste gomme perdete il feeling e la voglia e il piacere di guidare la vostra moto nel senso che quando entrate in un percorso misto la moto all'inizio fa fatica a scendere in piega poi superato quel gradino scende in maniera velocissima io dico sempre ogni volta che cambio le gomme sembra di guidare un'altra moto quasi ho paura di guidarla perché sembra di cadere comunque questo è un discorso a parte l'unico consiglio che sento di darvi se conoscete bene il posto pneumatico potete sfruttarlo in maniera piena montarlo un po' prima di partire di un viaggio del genere come ho fatto io quindi non farci 11.000 chilometri ma faccio di 14-15.000 perché appunto a ritorno di un viaggio queste gomme per ritrovare il piacere in guida secondo me sono da buttare parlando di costi queste gomme le trovate intorno a 260-270 euro montate ma questo dipende al vostro gommista ora finalmente mettiamo da parte il discorso costi e entriamo nella parte più interessante del video perché vi voglio mostrare nel dettaglio alcuni aspetti alcuni componenti meccanici della Sabertene Re dopo aver percorso 100.000 chilometri a a a a a Grazie a tutti Grazie a tutti